Il legno è l'unica materia prima rinnovabile di cui l'uomo può disporre. Le tecniche di forestazione e di lavorazione più avanzate ne consentono un uso corretto, efficace e senza sprechi. Il gruppo SCM progetta e realizza macchine e sistemi di lavorazione del legno che costituiscono un punto di riferimento per gli operatori mondiali del settore. 50 anni di esperienza, 3.000 dipendenti, 20 stabilimenti di produzione, 25 filiali nei mercati più industrializzati, 350 tra concessionari e agenti, una percentuale di esportazione che supera il 70%. Ogni anno il 5% del fatturato viene investito nella ricerca di nuovi prodotti, nuovi processi, nuove soluzioni. Per garantire la qualità dei propri prodotti, il gruppo SCM ha adottato una politica di integrazione e controllo dell'intero ciclo produttivo, attraverso aziende che sono diventate leader nei rispettivi segmenti di mercato. Due fonderie per le fusioni di getti in ghisa, di piccole, medie e grandi dimensioni. Un'azienda per lavorazione di carpenteria metallica che dispone dei più avanzati sistemi robotizzati. Un'azienda di produzione di componenti elettrici, elettromeccanici ed elettronici. Un reparto specializzato dedicato alla progettazione e realizzazione di elettromandrini. Un laboratorio di acustica che studia sistemi di sicurezza e di protezione, sempre più a tutela dell'operatore dell'ambiente. Da oltre 20 anni, il gruppo opera nel settore della formazione professionale e collabora attivamente con istituti universitari in Italia e all'estero per la realizzazione di corsi specializzati di tecnologia del legno. Attraverso aziende specializzate, il gruppo SCM offre un'ampia gamma di prodotti per la piccola, media e grande industria del legno. Le aziende che compongono il gruppo hanno marchi prestigiosi e ben noti agli operatori. SCM, l'azienda storica del gruppo, famosa negli anni 50 per la sua gamma di macchine per la falegnameria artigiana e oggi anche il maggior produttore mondiale di centri di fresatura a controllo numerico. Nei due stabilimenti si producono fresatrici a controllo numerico, scorniciatrici, linee integrate per serramenti oltre ad una gamma completa di macchine per la falegnameria artigiana. Un apposito dipartimento si occupa della commercializzazione delle macchine SCM prodotte negli stabilimenti specializzati del gruppo e rivolte alle aziende immobiliere di piccole e medie dimensioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Roltec è specializzata nella produzione di centri di fresatura a controllo numerico per impieghi industriali. Tra i prodotti più significativi, un centro di lavoro ad elevata produttività e versatilità di concezione...